la cristessa che ormai è solo ormai state lottando con il successo in questa stessa decima di scuola del trofeo Garibbo però Garibbo mangia, l'abbiamo detto sulla e vediamo che lo veniva è Garibbo e ci sarà Garibbo che va a vincere ci sarà Garibbo per la stessa che vince e la stessa domanda 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 si tracca esattamente di Norris e poi in quarta posizione è davantiato e la stessa domanda perché dunque Giorgine Cardino vince al primo sesto e ha trasluminato Vincolo Garibbo della Tecnogristi di Milano Magna che è in quarta posizione per il Sibone e il Terro e la LVK vince con lo supporto in quarta posizione invece e per merito il terzo merito della LVH con Marce Pallan quarta posizione e con la stessa chiamiamo Edward Ott queste due e quattro posizioni la calcettante la conferma ma che riguarda a tutti le altre posizioni e con la stessa le altre posizioni le altre posizioni le altre posizioni